Nema Petric, si riparte dal triplete ma anche da una responsabilità in più per te che sarai il nuovo capitano di Modena Volley. È vero, ho questo onore e responsabilità di essere il nuovo capitano di Modena Volley. È la prima volta che ho questo ruolo e farò il meglio possibile di farlo come hanno fatto quelli prima di me. Se riparte da una stagione in cui avete vinto tutto, forse è ancora più difficile cercare di ripetere quello che avete fatto? Noi abbiamo sempre voglia di far bene e di vincere, noi crediamo che possiamo e siamo qua per fare queste cose. Abbiamo una squadra molto forte, costruita molto bene, quindi abbiamo tutte le carte per giocare come l'anno scorso, anche meglio. Siamo qui, siamo ambiziosi e non ci nascondiamo. Mi è mancato un solo trofeo lo scorso anno alla Champions, personalmente tu quale metti in cima alla lista dei desideri? Sì, mettiamo quello che manca, poi vogliamo anche ripetere tutto che abbiamo fatto, sicuramente abbiamo possibilità e abbiamo tempo di lavorare adesso avanti noi e vediamo. Dopo il triplete cosa ci può essere di meglio? Da Champions? Sì, appunto, quello si può aggiungere anche a Champions, difendere quello che abbiamo fatto sicuramente non è facile, perché quando vinci poi sono tutti dietro che cercano di vincere, però noi sappiamo gestire questa pressione, siamo squadra forte e andiamo avanti. Neva, come state tra virgolette di riposo per te, insomma, come stai e come sta il ginocchio? Sì, quest'estate ho deciso di riposare dopo un po' di anni continui in nazionale squadra. Io bene, mi sono riposato, ho fatto tutti i programmi di lavoro fisico, di essercizi, di protocolli per recupero il ginocchio, mi sento abbastanza bene, adesso iniziamo gradualmente e arriviamo per prime partite al top di forum. Hai avuto due anni di Bruno come capitano, vi siete sentiti, ti ha detto qualche consiglio, qualche trucco? No, non ci siamo sentiti per questa cosa ancora, però lo chiederò qualcosa, sicuro, perché è stato un grande capitano e spero che abbia imparato qualcosa di lui. Si riparte anche con un nuovo allenatore, insomma, Angelo vi ha dato tanto, Roberto Piazza lo conosce, hai già parlato con lui? Sì, abbiamo parlato, lo conoscevo prima, Roberto è un nuovo allenatore, nuova squadra, nuovo percorso, quindi siamo tutti qui di aiutare Roberto come lui di aiutare a noi e siamo fiduciosi e felici di lavorare con lui. No, no, io sono convinto che abbiamo squadra più forte dell'anno scorso, squadra in generale, poi che dicono tutti, ma come dicono, non c'è bisogno di nascondersi, abbiamo migliorato e bisogna dimostrare questo in campo. Grazie.